Parliamo di questo disegno di legge di iniziativa popolare, si punta a risolvere un problema che per ora non è normato? Assolutamente no, questo è un disegno di legge voluto immarire molto forte dall'Aquila e dall'Aquila soprattutto, dove praticamente non c'è nessuna normativa che va a regolamentare tutta la situazione per quanto riguarda sia il mammo, la mamma e quant'altro, e per quanto riguarda anche le naspi. Per quanto riguarda le naspi questo disegno di legge diventa importante perché spesse volte in tutta questa situazione chi va a perdere il posto di lavoro si ritrova ad avere una percentuale di disoccupazione che va a prendere però che va a scendere, a ridursi mano a mano sino a arrivare quasi ai minimi termini. Allora, la richiesta fatta dall'Aquila è quella che si parte con una percentuale e si arriva con una percentuale per dare la possibilità quantomeno di sopravvivenza a chi ha perso il lavoro. Purtroppo, visto che in questo momento c'è molto precariato e molti lavoratori che perdono il lavoro, per quanto riguarda la provincia d'Agrigento, solo la provincia d'Agrigento, stiamo parlando intorno alle 5-6 mila persone. La Copacra è stata sempre un'organizzazione che è propensa a portare avanti lotte democratiche di giustizia e di risposte al mondo del lavoro, ma anche come patronato. Perché noi concepiamo il patronato, in modo particolare il patronato Italia Wille, lo concepiamo non come fatto burocratico dietro una scrivania, ma anche di rivendicazione che poi ha anche il ruolo che assegna la legge che va a regolamentare tutti i patronati. Quindi chi va a fare la scelta di andare in prepensionamento, chiamiamolo così, con l'appi social, non è che ce lo fa perché se lo sogna la notte e l'indomani mattina ci va. Ci va perché ha fatto delle scelte di vita, delle scelte magari costrette su determinate cose. E quelle che sono le categorie che sono esclusi, anche nonostante le manovazioni che ci sono, sono i lavoratori precari, gli stagionali, i marinai e i braccianti agricoli. Quindi questa è una grande platea che va incorporata con dei meccanismi e con delle agevolazioni alla pari, modificando alcune questioni perché uno che accede, che ha un lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno è una cosa, uno che fa il stagionale è un'altra cosa, quindi abbassando la soglia di garanzia e di reddito per poter accedere. L'altra questione è la maternità. La maternità è un fatto di crescita democratica, è un fatto che aiuta la società del futuro, quindi la crescita dei figli e quant'altro e quindi vanno viste determinati meccanismi e determinate situazioni. Ad esempio il papà oggi può godere entro il primo anno di vita solo ed esclusivamente 4 giorni di estensione obbligatoria e noi facciamo la proposta di 30 giorni.